Eccoci bentornati su Go Games, siamo su Stellar Blade e in questo video andremo a fare altre due missioni secondarie della Bacheca. Abbiamo già fatto le altre quattro, quelle iniziali, le trovate sul canale, abbiamo fatto diverse secondarie, adesso andiamo a fare anche queste altre due che se non le avete ancora sbloccate ovviamente dovrete fare queste quattro precedenti, ripeto le trovate sul canale anche se sono molto molto semplici e nel caso non ve le sbloccassi ancora fate un pochino di queste principali finché non ve le sblocca le andiamo ad accettare tutte e due stavolta faremo così quindi le accettiamo direttamente, eccole qui le abbiamo prese tutte e due e le facciamo in conseguenza perché sono una vicino all'altra quindi non facciamo avanti e indietro stavolta le facciamo tutte e due in un unico video ma contemporaneamente quindi dispositivo smarrito e moglie scomparsa. Ora per prima cosa da qui ci dobbiamo spostare e dobbiamo andare, potevo saltare direttamente al posto di fare tutto il giro ma va bene lo stesso che ce ne frega andiamo di qua e andiamo verso questo teletrasporto qui sì anche se no vabbè andiamo direttamente a piedi che ci frega se fanno una chiacchiera vi ricordo che in descrizione nel primo commento trovate la playlist con tutte le guide che riguardano Stella al Braid dateci un'occhiata mi raccomando lasciate un like per sostenere il tutto iscrivetevi attivate la campanella e lasciate anche un commentino insomma solite cose noi andiamo qui dritti per dritti la prima cosa che facciamo ci tuffiamo qui nell'acqua li vedete c'è già un segnalino verde ti devi immergere ti devi immergere cioè non è che devi fare come dici tu e andiamo ad esaminare questo orologino qui sarà un telefono sarà un telefono in realtà perfetto bene no non vogliamo ora torniamo su perché ora andiamo a fare direttamente la prossima secondaria se sentite casino scusate l'ufficio è in costruzione prima o poi lo finiremo e prima o poi ci sarà del silenzio finalmente si spera quindi andiamo nella zona aperta siamo qui qui andiamo direttamente sulla destra siamo qua interagiamo prima con questo corpo e dopo con questo e abbiamo fatto anche questa secondaria molto molto semplici molto molto veloci le portiamo giusto per completezza ci spostiamo alla bacheca nuovamente tornati qui ovviamente come al solito interagiamo e andiamo a consegnare le due quest conferma e conferma perfetto ci verranno sbloccate altre tre quest che andremo a fare in un prossimo video per questo video giovani è tutto come al solito grazie di cuore a tutti gli abbonati al canale a tutti super grazie vi ricordo sempre la playlist in descrizione nel primo commento e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao